Ha spinto giù per le scale la convivente, accusandola di essere tornata a casa con due ore di ritardo. Per questo i carabinieri hanno arrestato a Bari un uomo di 48 anni, accusato di lesioni aggravate. L'intervento dei militari è scattato a seguito di una segnalazione di due vicine di casa della vittima, che, impaurite per quanto stava accadendo, sono corse nella vicina caserma dei carabinieri di Via Tanzi per chiedere aiuto. I militari, giunti nell'appartamento, hanno accertato che l'uomo, dopo un'accesa discussione, aveva picchiato e spinto per le scale la sua convivente, una donna di 38 anni originaria dell'Ucraina. Stando alla ricostruzione dei militari, l'aggressione sarebbe scaturita da un presunto ritardo della donna, che invece di rincasare alle 19 sarebbe tornata a casa alle 21. I vicini di casa, allarmati dalle urla di aiuto della donna, sono intervenuti immediatamente soccorrendola. Uno dei condomini ha provato a chiamare i soccorsi, ma il 48enne lo ha aggredito, ne è nata una violenta collutazione senza gravi conseguenze. La donna è stata accompagnata all'ospedale di Venere, dove le sono state riscontrate varie lesioni ed una frattura alla spalla giudicata guaribile in 30 giorni. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bari, il 48enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo, dove l'uomo ha patteggiato sei mesi di condanna.